Ok, bello di ragazzo, sono Gisius Se magari fai un po' ragazzo Io sono Ale E oggi continuiamo con Niraoni Bene bene, sono felice A parte che ho rifatto che il Niraoni ci ha continuato a seguire dappertutto In cucina Proviamo un po' a guardarci in giro Io non so più cosa fare, basta Beh vai di qua Questa porta qui da boh è su Dai perciò io E' veramente rotto le scatole Tutti Oh, ruolo bloccato Attenzione con la Perché era il secondo gioco C'è tutte le lede Ah, ah, ah Ah sì, ci serve Ci serve tanto a sapere Cosa cazzo Cosa cazzo Cosa c'è E' la prova E' la prova ad aprire Cosa c'è Cosa c'è Questa porta lì C'è No Non è giusto Non lo so Non me ne sono sicuro Ma fai cazzo Te lo ho detto Ma non lo voglio di tornare qua tante volte E allora cosa devi fare Non lo so Sì Beh, non c'è Cosa c'è Cos'è Cosa c'è Le stalle Wow Why Perché C'è qualcosa C'era qualcosa in bilico sopra la torre Eh volevo fare lo scherzo Del segno con l'oro E c'è caduto il dorso Spero che non sia qualcosa di corrosivo Perché in una parte Mi è caduto sulla mia maglietta Oddio Fammi vedere la tua maglietta Cos'è stato? Oh uno dei nostri forse Eh Takuro Sì Takuro Voi non siete dei mostri Che cazzo sei Takuro? Quello poteva davvero Davvero fare del male a uno di noi Beh ho supposto che Non come potevo sapere Che stavate arrivando Comunque felice di vedervi Hiroshi Eh è stato lui a mettere la trappola Hiroshi va tutto bene Takuro Sì la vesce a lui Così Così Come sta andando? Sta andando orribilmente Takuro Quelle cose Quelle cose fanno schifo C'è qualcosa che si sta costruendo con noi C'è molto più di qualcosa C'è Sì Niente merda Niente merda Niente merda Niente merda Cosa pensi che Chi pensi che si è scappato dal mostro? Chi pensi che si sia barricato con Takeshi? Qui Takuro è patitico che tu non puoi Hiroshi No merda Non capisci il resto Ragazzi fermati Takuro hai visto qualcun altro? Hai visto Takeshi? Sì Siamo insieme È andato fuori un secondo Mi sta provando a trovare un'altra via Non si è andato fuori con lui No Perché due persone hanno attratto molto più l'attenzione Così ho una migliore idea di morire Cosa succede se qualcosa accadesse a lui? Lo conosci Takeshi? È un Qua in vita è qui Una piccola cosa Mi cosa Mi rossi Non me ne frega Ryan sì Abbiamo perso un rai Sì È anche buono Cos'era poi Abbiamo avuto Takeshi Takeshi ciao Ah ma l'abbiamo vista prima che era entrato Ehi Takuro Ciao ragazzi Takeshi È bello vederti che stai bene anche tu Grazie a Takuro Lui mi ha salvato qua Grazie a Takuro Dove sono gli altri? Non ho trovato nessuno Spero che Mandy Ryan Stiano bene Anche Mika Eh Mika Mi l'avevo ancora trovata Mi dispiace Ma Mika Takuro Sì ho incontrato Mika per un po' Deoni Kill a dare She's dead I let her down She's dead Deoni 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 Non c'è niente che potessi fare L'ho vista correre intorno E subito dopo Un Spirale C'è Del sun Praticamente Così è morta Mika è andata E non c'è niente che possiamo fare Dobbiamo Mantenerci caldi Non dobbiamo Magitarci Quello suona come una buona idea Takuro Tira su colmenso Sniffle Penso che sia Sniffle Andiamo Takeshi Non No Ma cazzo vai Takeshi Come so piangere E scappato Sei cognoso Qualcuno dovrebbe andare con lui Non voglio che muoia Là fuori Suona una buona Suona una buona idea Suona Non è patitico Lo conosci Lo sai Andrò io Così lasci lì Loro due muoiono Muore anche l'altro Sono loro due Siamo Ah non ho ancora trovato Takeshi Devo trovarlo Così Devi trovarlo Devo trovarlo Così Non lo so Oh dai Non lo so Mi arrendo Datemi la soluzione Cosa? Perché? Perché? Che ho fatto? Sei andato a quando? Che ho fatto? C'è spiegatemi Non è in questo armadio Non è qua Lì non ci vuole rientrare Qua non ci si può entrare Quale cazzo fai? Non ci sono Tu Tu che hai inventato questo gioco Va bene Tu Cioè forse ci stai guardando In questo momento Tu sei una brutta persona Ecco L'oblog Che cavolo vuol dire Oblog Non lo so Lo sbloccata Bello Non si vede niente No Non ci penso neanche Andare in quella stanza Chi? Chi sta guardando Interno Eh quindi Non posso andarci? No Ah Che cosa sono I numeri fuori? Provo Provo Allora proviamo Tutte le combinazioni possibili Uno Uno Iniziamo da No Non lo voglio Sto Uno Ok ragazzi Ce l'avamo vicini La soluzione è Sei due Sì E come lo poteva sapere Uno Come? Come ragazzi Come lo poteva sapere E poi cos'è che è Stai illuminando la stanza Bello Una prisma Che rifletta la luce Nella stanza Ah C'è 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 Non lo rifare mai più Mai più Mai più Mi hai capito Mai più Perché è passato Ryan che mica di ridi vai a quel paese lo so perchè la testa gli passa nel divano no no 3 2 devo farmi un altro giro veramente ma quanta cosa però c'è qua ma anche qua anche lui si può si si è finito uh basta ryan ryan dimmi che stai bene ti prego ti prego ti prego ti prego dimmi che non l'ha visto più che altro perchè l'hai bloccata no ma fanculo no perchè bulma perchè l'hai bloccata bulma eh io lo sblocco col crowbar non me ne frego un cavo no si voglio bloccata non sblocca un cazzo tu sei una bruttissima persona bene ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi e una tra sono in tre perchè ce n'è solo uno perchè è una trappola non scapperete tanto facilmente ora mai abbassare la guardia ragazzo sei finito ah no oltre contro uno no e sono pure no 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 tu scherzi non 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 non